Aspettando le finali di Miss Italia, che quest'anno saranno per la prima volta a Montecatini Terme, si stanno svolgendo da nord a sud concorsi locali per trovare le regginette di bellezza che si sfideranno in diretta TV su Rai 1 il prossimo settembre. E anche la città eterna ha eletto la sua Miss, Miss Roma Capitale 2011. Sul suggestivo Ponte della Musica, inaugurato da pochissimo, la bella showgirl Deborah Salvalaggio ha presentato l'evento a cui hanno partecipato 20 ragazze, che si sono mostrate in tutto il loro splendore, in passerella con abiti da sera, ma soprattutto ammiratissime in bikini. Grazie 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 Grazie